al momento della creazione gli esseri umani erano in uno stato di shalom piena tranquillità completezza solidità benessere pienezza sicurezza prosperità armonia godevano in realtà di un perfetto benessere fisico mentale sociale spirituale e di pace il concetto ebraico di pace radicato appunto nella parola shalom significa integrità completezza solidità salute sicurezza e prosperità portando con sé l'implicazione di qualcosa che permane la via di dio verso la salute la prosperità sono i principi di salute della creazione di un ritmo di riposo lavorativo di 24 ore un buon uso dell'aria e dell'acqua la vita vicino alla natura seguendo anche una dieta vegetale godendo il sole e vivendo appunto un'attività fisica scelte adeguate e un giorno di riposo e di culto sia anche nel riposo l'elemento dell'adorazione e in qualche modo ci aiuta a stare meglio ci aiuta a vivere più in armonia con noi stessi e con il nostro creatore ma poi vi è un altro elemento che come cristiani avventisti del settimo giorno dobbiamo tenere conto non possiamo nel tempo in cui viviamo non tenere conto del rispetto del creato non possiamo far finta che quello che sta accadendo sotto i nostri occhi sia un qualcosa di passeggero sono più che convinto che quello che vediamo che quello che sta succedendo la degradazione di questo mondo ha qualcosa di irreversibile infatti come esseri umani abbiamo ricevuto la responsabilità di prenderci cura di tutte le creature viventi e delle qualità del loro ambiente come esseri umani siamo stati quindi chiamati a impegnarci in uno stile di vita semplice in uno sviluppo sostenibile e nella cura del loro del nostro ambiente infatti per la maggior parte della storia l'impatto delle attività umane sull'ambiente è stato limitato ma dalla rivoluzione industriale un enorme cambiamento ha coinvolto il modo in cui le cose sono state trasformate tramite il processo produttivo tecnologico dal cibo all'energia da allora c'è stato un importante deterioramento dei sistemi naturali aria acqua terra e foreste pensate che oggi l'allevamento porta ad un uso molto inefficiente dell'acqua delle terre e delle risorse utilizzando un terzo di acqua dolce un terzo delle culture prodotte per nutrire il bestiame sono necessari circa 15.000 litri di acqua per produrre un chilo di manzo mentre solo 1250 litri di acqua sono necessari per produrre un chilo di mais o grano se solamente gli americani mangiassero fagioli al posto della carne bovina gli stati uniti realizzerebbero circa il 50 75 per cento degli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra per l'anno 2020 istantaneamente alla creazione quindi dio fornì le piante come nutrizione sia per gli esseri umani che per gli animali una dieta vegetariana o prevalentemente vegetale era il piano originale di dio per l'umanità seguire ossia di vita della creazione o adottare una dieta base vegetale più importante oggi che mai per la nostra salute ma ancora di più per l'ambiente e come a ventissi del settimo giorno sostengono stile di vita semplice sano in cui le persone non entrano nella routine del consumismo sfrenato e della produzione di rifiuti chiediamo il rispetto del creato la moderazione dell'uso delle risorse mondiali la rivalutazione dei bisogni e la riaffermazione della dignità della vita creata in una dichiarazione sull'ambiente pubblicata nel 1996 una visione con più di 150 anni la chiesa cristiana ventista del settimo giorno ha avuto una grande opportunità una grande luce si è elevata nel corso della storia e questa luce certamente va compresa va studiata quando leggevo questa citazione che riprendo nel 1863 enle white parla dell'uso degli elementi naturali come l'esercizio il riposo la luce solare le proprietà curative dell'acqua e una dieta sana ed equilibrata sono per me dei suggerimenti che vengono veramente dall'alto oggi in una situazione in un contesto in cui soffriamo e qui la salute è diventato il primo elemento fondamentale per riuscire a andare avanti con una salute più che buona e allora qual è lo sguardo della fede del nostro tempo anche noi siamo stati chiamati siamo chiamati a porre il nostro sguardo su qualcosa che viene dall'alto certamente non vi sto dicendo di costruirci un qualche oggetto ci mancherebbe ma voglio dirvi che abbiamo avuto un messaggio straordinario quello della salute quello della riforma sanitaria che parla oggi ad alta voce che grida e forse questa pandemia nella quale siamo tutti quanti ci vuole ricordare l'importanza di ritornare a dio e anche di riscoprire oltre che una scienza anche le cose che dio ha messo nella natura pensate che un certo numero di luoghi nel mondo per esempio in sardegna in italia okinawa in giappone e gli avventisti della loma linda in california negli stati uniti sono state chiamate blue zones cioè si tratta di regioni in cui un numero di persone superiore alla media vive a lungo spesso fino a 90 e 100 anni rimanendo sano e attivo in età avanzata ciò che le indagini hanno dimostrato è che queste blue zones della longevità condividono alcuni principi sanitari comuni come sostegno familiare non fumare dieta vegetale attività fisica moderata ma regolare un impegno sociale diete a base vegetale prospettive positive e fede sì perché come alcuni di voi in italia è uscita ormai qualche anno fa sul national geographic una rivista di divulgazione scientifica ha incluso tra gli avventisti tra le popolazioni più longeve questa è la testimonianza del fatto che la bontà dello stile di vita avventista trova puntuali riscontri anche in ambito scientifico infatti da oltre un cinquantennio a questa parte anche la ricerca scientifica ha iniziato ad interessarsi delle salute degli avventisti non è sorprendente il dottor george pamplona che è un chirurgio generale dell'apparato dirigente ed è membro del comitato scientifico della fondazione vita e salute evidenzia come lo stile di vita sia fondamentale addirittura in questo periodo in cui possiamo innalzare il nostro sistema immunitario il dottor pamplona ha scritto sbagliati libri tra cui dottor natura a cura della nostra casa di riscia a dv che chi non lo ha comprato lo invito ad averlo in casa un libro molto interessante ma dottor pamplona arriva a fare una considerazione importante c'è un'enfasi sbilanciata tra quello che è il problema del covid 19 e quello che appunto è uno stile di vita chiaramente la chiesa cristiana ventista non è contro i vaccini ma la nostra enfasi la nostra enfasi la nostra luce che abbiamo ricevuto è posta sulla prevenzione attraverso uno stile di vita uno stile di vita equilibrato uno stile di vita che nasce da una comprensione profonda di come curare il nostro corpo e diciamo che spesso abbiamo dimenticato in quest'altra slide c'è una comprensione del dell'importanza di innalzare questo sistema immunitario attraverso appunto una prevenzione uno stile di vita forte deciso chiaro abbiamo tutti quanti compreso oggi forse anche in più i non avventisti degli avventisti l'importanza dello stile di vita di quanto questo possa innalzare il nostro sistema immunitario addirittura c'è un supporto scientifico per il covid 19 per la prevenzione del covid 19 l'utilizzo di alcune sostanze naturali come appunto stavo dicendo l'aria l'esercizio fisico ma anche l'utilizzo di sostanze naturali come la vitamina d lo vediamo anche questo raccontato dalla nostra rivista vita e salute recentemente queste due riviste questa di questa rivista che vi che spero che ognuno di voi abbia a casa parla di vitamina d contro il covid quindi questa sperimentazione che probabilmente sta dando dei buoni risultati quindi l'utilizzo anche di sostanze naturali come diceva in le white oppure pensate alla lattoferrina anche questo un altro elemento che sta suscitando interesse per gli scienziati io credo che siamo arrivati ad un punto in cui anche noi dobbiamo porre veramente il nostro sguardo su ciò che la parola di dio ci invita a guardare in conclusione anche lo studio delle scienze rivela il creatore tutta la vera scienza dice le white non è che un'interpretazione di ciò che dio ha scritto nel mondo materiale essa attraverso la ricerca scopre nuove prove della saggezza della potenza di dio se ben compresi sia il libro della natura sia le scritture ci fanno conoscere il creatore attraverso gli insegnamenti delle sagge e benefichi leggi attraverso cui dio opera ci sono svariate modalità per poter comprendere l'importanza della salute a voi che mi state ascoltando a coloro che magari sono disorientati o hanno paura o sentono che qualcosa forse non riusciranno ad andare avanti ecco io vi invito a fare attenzione a questi principi straordinari che la bibbia che il signore attraverso un profeta ci ha trasmessi io credo che oggi dobbiamo prendere in considerazione questi principi vi invito a fare questa esperienza prendetevi del tempo prendiamoci del tempo per curare la nostra mente il nostro corpo e la nostra salute spirituale il dottor berrino ha citato recentemente in un comitato scientifico della fondazione vita e salute che un'alta percentuale di coloro che hanno una buona spiritualità anche questo innalza il sistema immunitario pregare fa bene conoscere dio fa bene e soprattutto credere ai suoi profeti come dice quest'altro testo con il quale concludo seconda cronaca 20 la parte finale di questo versetto 20 seconda cronaca 20 20 che dice quanto segue ascoltatemi o giuda e voi abitanti di gerusalemme credete nell'eterno il vostro dio e sarete saldi credete nei suoi profeti e prospererete ecco io sono più che convinto che quando mettiamo in atto i consigli che dio ha dato attraverso anche questo profeta e le white possiamo sicuramente considerarci vittoriosi che possiamo continuare a guardare a gesù che è colui che ci dà la salvezza eterna ma che ci dà anche dei consigli pratici per poter continuare a camminare in questo deserto in questa fase difficile dell'umanità per arrivare anche noi a quella terra promessa e allora l'invito che vi faccio è alziamo alziamo queste vele le nostre comunità delle nostre famiglie per poter continuare a navigare verso la terra promessa e come diceva seneca nessun vento è favorevole al marinario che non sa dove andare bene noi sappiamo dove vogliamo andare che dio vi benedica buon sabato a tutti